Ebbene voglio recensire per voi, trovate la recensione completa al link nella descrizione un film non molto amato dal nostro critico e mio amico Federico Frusciante che nei reboot, un video di qualche anno fa, lo snobba platealmente e lo definisce un film del cazzo in tal caso spesso andiamo d'accordo, abbiamo gusti cinematografici molto simili ma voglio dissentire perché secondo me The Score, appunto film considerato da molti un filmetto non lo è affatto filmetto, non l'avete visto attentamente e siete stati assai precipitosi affrettatissimi nel giudizio vostro perentorio e sbadate The Score è un gran bel film, forse togliamo gran bel film, credetemi film del 2001 della durata abbastanza consistente di 2 ore e 4 minuti diretto dal veterano Frank Oz si è un uomo diventato famoso nell'ambiente per essere stato uno dei padri, diciamo così di quelle sublimi creature chiamate Muppets assieme al loro creatore G. Hanson regista talentuoso e sofisticato in comedia e niente affatto trascurrabili divertentissime e molto intelligenti come la piccola bottega degli orrori che c'è Rick Moranis tutte le manie di Bob con Richard Dreyfuss e Bill Murray In e Out con uno strepitoso Kevin Kline e il bellissimo Bowfinger con Steve Martin e Eddie Murphy che con questo formidabile, sì secondo me è un film formidabile The Score, poi lo leggo a ricordi personali molto belli e piacevoli di quel periodo cambia totalmente genere spiazzandoci davvero e girando magistralmente un ottimo Capper, Capper Move, Capper Movie il classico film di rapina da colpo grosso assoldando nel suo cast tre attori di razza pregiatissima tre campioni imbattibili del miglior metodo Actor's Studio modelli recitativi altissimi appartenenti a differenti generazioni accomunati però dall'identica forza espressiva dalla stessa poderosa versatilità della pari poliedrica classe mimetica e dall'eguale ipnotico carisma ovvero Robert De Niro Aaron Horton e Marlon Brando qui purtroppo la sua ultimissima apparizione cinematografica e già basterebbe questo ciò 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 per reputare The Score The Score un film importante il significato del titolo, The Score, cos'è? il punteggio, no? ma è anche lo score riferito alla colonna sonora e sì siamo a Montreal Nick Wells e Robert De Niro è un attempato ladro una vecchia volpe ritiratasi dalla scena che gestisce un elegante bistro trascorre le sue giornate a leggere il giornale a scrutare nell'enigmatico turbinio della sua vita ora chetatasi nella maestra paciosa calma borghese e incontrare la sua fiamma l'hostess Diane Diana 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 la stupenda Angela Bassett non male in supernova mostra poi un culo durante una bella mattinata plumbea Nick viene avvicinato loscamente da uno strano figuro che a prima vista pare disabile e minorato mentale Jack Teller 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 Edward Norton thank you thank you Nick thank you Nick costui gli sussurra a Melliflo che qualcuno l'ha richiamato in servizio per un affare lucroso e miliardario e lo sta aspettando per un appuntamento speciale costui è Max Marlon Brando leggetevi il resto della trama a Link secondo me è un gran bel film non tutti gli ice movie ice movie devono essere per forza dei capolavori assoluti come IT esistono le raffinate sfumature e Descorne è un brillante riuscitissimo esempio so che vedere troneggiare i nomi in locandina di Robert De Niro Edward Norton Marlon Brando anche se era un Marlon Brando oramai diventato un elefante potrà avervi scontentato parecchio perché il film non è un capolavoro quindi con tre nomi così uno si aspetta il filmone di tutta una vita non è così un film come se ne facevano una volta thriller molto elegante molto sofisticato ben girato con un'ottima colonna sonora credo sia di Our Shore e non c'è alcun uso della violenza in questo film strano per essere un film di Hollywood non c'è nessun spargimento di sangue e già questo lo renderebbe un film a suo modo interessante e particolare Merighetti si il critico Paolo Merighetti si è espresso alquanto lodevolmente nei confronti di questo film e anche su Metacritic ha un bel 71% di media recensoria positiva quindi tutto questo filmetto non lo è non bisogna essere superficiali e alla fine il grande Bob spoilerizzo spoilerizzo sfida Edward Norton anzi è Edward Norton che sfida Bob Nick Wells pensa di aver intascato il malloppo e Bob De Niro soghigna con la sua celebrima risatina e gli dice quando hai iniziato a crederti a pensare di essere migliore di me fra l'altro The Score è l'unico film in cui De Niro e Brando hanno recitato assieme si dice anche che Marlon Brando abbia litigato con il regista Frank Oz e che le scene con lui le abbia girate Robert De Niro tant'è vero che fino a qualche anno fa su IMDB oltre a Bronx e a The Good Shepherd De Niro veniva accreditato anche come regista co-regista di The Score non sapremo mai forse la verità De Niro e Brando che sapete hanno interpretato Vito Corleone e sono gli unici credo non voglio sbagliare gli unici due attori nella sala del cinema ad aver vinto l'Oscar per lo stesso personaggio il leggendario mitico Vito Corleone The Score riguardatelo non è un capolavoro è un film come dice Mereghetti gli do ampia ragione da due stellette e mezzo quindi un film da sei e mezzo sette che potete gustarvi con un drink in mano in una serata molto tranquilla con un drink in mano con un drink in mano con un drink in mano Grazie.